Siamo nei giardinetti di via Marco Polo dove nei giorni scorsi è iniziata l'installazione dei cartelli che rendono finalmente operativo il divieto di fumo e di consumo di bevande alcoliche nei parchi gioco comunali. Un provvedimento atteso, già vigente in altre realtà, che il sindaco Pedrotti ha assunto nelle scorse settimane firmando un'apposita ordinanza sindacale. È un'iniziativa che ha una chiara valenza educativa e si propone di tutelare i più giovani frequentatori dei polmoni verdi cittadini anche limitando la possibilità per gli adulti di dare loro il cattivo esempio. Sappiamo tutti che il fumo, anche quello passivo, e l'abuso di bevande alcoliche sono fonte di morte, di malattia, di incidenti e di disagio sociale. Per questo è molto importante investire nella prevenzione e promuovere comportamenti attenti e responsabili. Le aree attrezzate e interessate dal provvedimento sono 37, quelle sotto i 3.500 metri quadri il divieto sarà in tutta l'area, nei parchi più grandi invece varrà solo presso le attrezzature. La Polizia Municipale eseguirà dei controlli ma chiaramente contiamo sulla collaborazione dei cittadini perché si tratta di far crescere in modo sano le giovani generazioni cui vogliamo offrire dei parchi sempre più sicuri, più puliti e più accoglienti.